Quattro risultati utili consecutivi per l'Under 15 del Pedara che ospita al comunale di Via Stella e i pari età dell'Accademy Cicciolodi, tra i punti di distanza in classifica, tra i bianco-blu di Carmelo Pappalardo che strizzano l'occhio la zona play-off dopo la vittoria in casa della Junior Calcio Cireale. Il tecnico Pedarese riparte dal consueto 4-3-3 tra i pali Pappalardo, da destra verso sinistra Dolcini, Torrisi, Santonocito e Cutraro, a centrocampo Montaina, Basile e Gabriele Nunzio Laudani in avanti. Il tridente è composto da Simone Laudani, Cavallaro e Vittorio. A disposizione e abile a gara in corso Nicosia, Andronico, Salamone, Partescano, Cutuli, Dagata, Zappalà e Gabriele Laudani. Dirige la partita il giovane fischietto della sezione 10 Reale. Nicolas Trovato, passiamo al film dell'incontro, grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. Pedari che mette le cose in chiaro già dopo un solo minuto, prezioso intercetto di Vittorio che fulmina l'estremo difensore con una conclusione all'angolino, impatto deciso e convinto dei padroni di casa che raddoppiano al quarto con l'assolo di Basile. Serpentina vincente che vale il 2-0 e un chiaro segnale all'Accademy Lodi che nei primi minuti resta a guardare. C'è una sola squadra in campo, il Pedara calcia con grande semplicità, Montaina sale in cattedra. La prima conclusione si spegne d'un soffio a lato il secondo tentativo e respinto da Dolski in tuffo al ventesimo. Eggiatris, apertura di Cavallaro per Montaina, largo sulla destra. L'assistenza di ritorno del 10 per il numero 9 è puntuale, così come la conclusione di Cavallaro che la chiude sul primo palo. Passa un minuto, Pedara vicinissimo al gol del 4-0 con la punizione di Basile che esce d'un nulla. Gol che però non tarda ad arrivare ad opera di Gabriele Vittorio che cala il poker e manda i titoli di coda con una frazione di gioco d'anticipo. Pedara che non è ancora sazio alla mezz'ora, angolo dalla destra di Gabriele Laudani. Montaina colpisce il palo sul tapin e è sempre sua la correzione a rete che vale il 5-0. Accademy Cicciolodi rinunciatario, di fatti non si vede mai. Dalle parti di Pappalardo al 31esimo sponda di Cavallaro. La conclusione di Montaina viene respinta sul palo. Padroni di casa che continuano ad attaccare al 32esimo. Il diagonale di Vittorio si spegne al lato al 33esimo. Percussione insistita di Montaina che non è fortunato. Il palo gli nega il raddoppio che però arriva al 35esimo minuto. Lesto il numero 8 a correggere. Il pallone calciato da Cavallaro sul palo. Il primo tempo si chiude con un tennistico 6-0 che non lascia dubbi. Pedara avvolgente propositivo. Accademy Lodi chiamato nella ripresa a fare qualcosa in più. Intanto ci sono i primi cambi da parte di mister Pappalardo. Dentro Salamone e Andronico al posto di Dolcini e Cutraro. Ospiti che nei secondi 35 minuti proveranno a rientrare timidamente in partita. Infatti passano 7 secondi e il tiro dalla grande distanza di Corrado. Prende il palo. Secondo l'arbitro valica la linea. Qualche dubbio c'è ma l'arbitro accorda il gol che vale. Il 6-1. Accademy Lodi che accorcia le distanze ulteriormente. Ancora con Corrado al 14esimo minuto due volte la conclusione del numero 9. Prima Pappalardo poi il Lampo che vale. Il 6-2. Il Pedara torna a farsi vivo al sedicesimo con Gabriele Laudani che centra il palo. L'ennesimo di giornata tra le file appunto Pedaresi. Gol che però arriva al diciannovesimo ad opera di Simone Laudani che con il mancino calcia alla destra del portiere mettendo a segno il gol del definitivo. 7-2. Ancora cambi tra le file Pedaresi. Al 28esimo Zappalà e Partescano prendono il posto di Cavallaro e Simone Laudani tre minuti più avanti. Carmelo Pappalardo complete cambi con Nicosia che rileva tra i pali Pappalardo. Dagata che prende il posto di Montaina e Coutuli che avvicenda Gabriele Simone Laudani. Non accade più nulla sino al triplice fischio di chiusura. Pedara che sale a 13 punti e chiude in bellezza il 2023 proponendosi in piena zona playoff. Quale possibile outsider del campionato? Da Francesco Casicci un caro saluto amici di Wii Sport. Appuntamento alla prossima!